Dal lunedì prossimo l'accesso nei punti vaccinali della provincia di Lecce per la somministrazione della terza dose non sarà più vincolato agli appuntamenti ma si potrà presentare liberamente presso gli hub e ricevere la terza dose di vaccino. Sarà sempre garantito l'accesso libero anche per la prima e la seconda dose. In pratica l'unica fascia d'età per la quale la prenotazione rimane necessaria è quella pediatrica dai 5 agli 11 anni. Un'altra novità a partire da lunedì riguarda i punti vaccinali di Maglie, Poggiardo e Galatina che dal 19 chiuderanno i battenti mentre gli altri rimarranno aperti a Casarano, a Gagliano del Capo, Gallipoli, Lecce nelle due sedi di Caserma Zappalà e Museo Castomediano, Campi Salentina, Martano e Nardò. Un segnale che la pandemia sta allentando la sua morsa e che anche gli ospedali stanno tornando alla normalità abbandonando lo stato d'emergenza legato al Covid.